Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete oggi è la seconda maglia del Santos per l'annata 2023 in edizione FAN. FAN. Maglia semplice ma veramente molto elegante, azzeccata, la maglia che una volta è stata di Neymar, voglio dire, uno dei calciatori più famosi in Europa. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, fatta molto bene con tutte le rifiniture al posto giusto. Il costo lo vedete qui sopra. Che dire? Molto basso, lo dico tante volte, però fate voi i vostri ragionamenti, la maglia è sicuramente spettacolare. Qua sotto in descrizione trovate i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime offerte che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla spingere quel pulsante, ma ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao! Grazie a tutti.